Lavorare in uno stesso ufficio riducendo le spese è quanto sta prendendo sempre più campo anche nella provincia di Cristo e Mediano. Un ambiente di lavoro unico dove operano fianco a fianco professionisti di discipline diverse, soprattutto nel mondo delle nuove tecnologie che in questo modo abbattono i costi di un normale ufficio e danno vita ad una nuova ed originale esperienza di lavoro. Questo è il co-working realtà sino ad oggi patrimonio delle grandi città approdata anche a Pistuia, l'iniziativa del network multiverso che ha aperto uno spazio in via Pestalozzi nella zona di Sant'Agostino l'inaugurazione è in programma nel pomeriggio di venerdì 28 novembre. La scelta è data dal fatto di poter condividere lavori anche con altre persone, diciamo allargare anche il bacino delle competenze, delle freelance che possiamo coinvolgere nei lavori e dare la possibilità a chi ha bisogno di una schivania e spendere poco di poter avere un ufficio. Com'è fare il giornalismo attraverso una struttura del genere diversa da una relazione ordinaria? È sicuramente un'idea innovativa, quindi da una parte la possibilità di entrare in un ufficio già fruibile, quindi senza doversi preoccupare di aggacciamenti, di wifi e quant'altro e trovare uno spazio insieme a altri professionisti che hanno anche idee che possono essere interessanti. Noi ci siamo trovati qua in quanto lavoratori part time di un'azienda però questa formula ci stuzzica perché ovviamente nel nostro tempo fuori part time riusciamo a concretizzare esperienze interessanti, già qualcuna si è materializzata.